Il Mars Fenix è diretto nella regione al polo nord di Marte e il suo obiettivo è di cercare regioni abitabili, luoghi dove avrebbe potuto esserci stata vita nel passato. La fase dove ci troviamo è chiamata Cruis. Che suona essere facile e rilassante ma in realtà è un periodo indaffarato per il team della navicella. Siamo impegnati. Il team è impegnato preparando quello che serve per la scienza. È una prova che può essere paragonata al tiro con l'arco che è una cosa vera ma ciò che mostrano è la loro ingegnosità e completamente sbagliata, sgualcita. C'è un video che dimostra questo di un genio che ha riscoperto l'antica arte del tiro con l'arco. Quando hai la freccia sulla destra se sei destroso e l'altra mano sull'arco, all'esterno dell'arco tieni la freccia con la destra e la sistemi sull'arco e poi tiri una, due, tre frecce in un solo istante con un ritmo veramente rapido come una mitraillatrice, come un'arma semiautomatica. Lanciare una navicella su Marte è un po' diverso. L'arco in questo caso è un razzo da 250 tonnellate. È un razzo da 250 tonnellate. È un razzo da 250 tonnellate per 250 milioni di miglia. Sì, giusto, ma dai. Tutto ciò è come lanciare la tua freccia dallo stadio d'oggi e colpire la propria base nel campo Wrigley di Chicago. Questo sembra un colpo quasi impossibile. Desideriamo mostrarvi come funzionano gli oggetti nel vero mondo semplicemente per divertimento. Vogliamo mostrarvi il percorso delle frecce e le fessure verticali delle pupille. Ma ci sono un sacco di scherni qui come andare avanti e indietro dalla freccia all'arco. Una cosa reale nella vita reale. Ma loro fanno le immagini grafiche computerizzate e le confrontano con le immagini computerizzate della navicella che non è una cosa reale nella vita reale. Ho già parlato di questo in un altro video del cono. Se lasci cadere un cono la parte a punta finale va sempre davanti dovunque ti trovi, ok? Ma ci fanno vedere una freccia che è esattamente l'esempio che ho usato per dimostrare il fatto che si deve allineare come una freccia. Ma non lo hanno fatto perché essendo delle immagini CGI possono fare tutto quello che vogliono. L'hanno orientata come una freccia che va all'indietro raccontandomi che si tratta di realtà. Diventano pigri e sfrenati con le immagini grafiche computerizzate. Barney dovete usare la vostra immaginazione anche per le cose qui sulla Terra dove si suppone siano vere come la rete nello spazio profondo. Ecco quello che fanno e si beffano di voi che venite completamente presi per i fondelli perché lo fanno con i vostri soldi per insegnarvi cose senza senso mentre vi dicono che questo è il massimo della scienza. E così la vostra mente segue questo e rigetta la Terra piatta. ma questo è solo un mucchio di totali falsità. Ma nella realtà è molto più complicato. La Terra e Marte girano attorno al Sole con velocità differenti e movimenti costanti. È così scuro e misterioso che genera farfalle nel mio stomaco e queste solleticano la mia spina dorsale creando pelle d'oca che poi penetra nella mia mente. guardate qui questa animazione è sbagliata. Vedete perché? Riuscite a vedere perché Marte è fra la Terra e il Sole. La nostra navicella si muove a quasi mille chilometri orari. Ora ovviamente quando qualcuno vi mente non possono fare altro che aiutarsi se non sorridere o no. Non si fermano mai. Le menzogne della NASA non si fermano mai. Il peso la velocità l'obiettivo la distanza sono tutte menzogne. Il tracciamento della navicella usa le antenne della rete nello spazio profondo. La rete nello spazio profondo è una delle mie scoperte preferite e guardando a questo possiamo dire che sono tutti attori e questo materiale in toto è una vera e propria schifezza. La rete dello spazio profondo è il solo ente che verifica quello che sentono di ritorno dai satelliti ed è come un vecchio un antico chiaroveggente o un mago che osserva delle ossa sparpagliate qua e là o degli intestini per fare cosa? Per predire cose che sono attorno a voi vicino a voi ma che non vedete tipo il futuro o qualsiasi altra cosa divinano questo e raccontano alla gente queste cose senza senso. Questo è quello che è la rete dello spazio profondo ma ovviamente noi sappiamo dove si trova la navicella inviamo i comandi ascoltiamo che gira si muove fa quello che deve fare e sappiamo quanto è lontana quanto è veloce dove va ma tutto questo è assolutamente al 100% una cazzata non c'è nessuna cosa là fuori se non quello che la rete dello spazio dice di sentire come queste cose come il Voyager sono complete menzogne una vera e propria beffa. Nelle 22 ore precedenti al rientro abbiamo l'ultima possibilità. il suo compiacimento è evidente non possono nascondere i sogghigni dalle loro facce mentre vi raccontano queste cose lo fa il team di navigazione ma per il pubblico stesso questa cosa che dice è vera ma nella realtà è molto più complicato è molto più complicato di scoccare una freccia con l'arco questo è vero perché è una bugia una bugia che diventa così pesante e complessa tanto che non penso possa tenere per lungo tempo spero. la Terra e Marte girano attorno al Sole con velocità differenti e movimenti costanti addirittura le loro animazioni sono sbagliate Marte si suppone che dovrebbe essere molto più lontano dal Sole rispetto alla Terra questo non è corretto come può essere che io sia il solo fisico o persona di scienza nel mondo intero che non voglio dire che non accetta questo chi ha visto questi sbagli sono rosse menzogne non ha alcun senso è una schifezza completa e le affermazioni che fanno sono insostenibili tanto che non possono avere peso in qualsiasi discussione e da nessuna altra parte stanno solo seduti nel trono più alto della scienza sputando fuori tutte queste sciocchezze facendola franca costantemente e non posso accettare questo semplicemente non posso questo è il motivo per cui penso che debba esserci qualcos'altro per rendere le persone così assopite capaci di ingozzare cose del genere e perché sono così noiose che nessuno le guarda la stessa navicella si muove velocemente attraverso il sistema solare cercando di arrivare sull'obiettivo in movimento un obiettivo che inoltre gira sul proprio asse che asse perché ha un asse che cosa determina che abbia un asse e perché questo asse non gira attorno nella parte nord dove l'asse dovrebbe essere più lontano rispetto all'asse sud che dovrebbe essere più vicino dovrebbe stare così come quando far ruotare la parte in alto di una palla capite cosa significa perché questo asse mantiene questo determinato angolo mentre ruota di 360 gradi non ho mai capito questo non ha alcun senso non si può dimostrare questo in alcun modo con un giroscopio sulla sommità o meno è totalmente senza senso pensateci è una palla che gira sull'asse inclinata su un angolo e quest'angolo rimane nel sistema delle coordinate cartesiane su x y z e quell'asse lo mantiene mentre ruota su 360 gradi attorno al punto centrale ma come può essere come è possibile anche se la gravità fosse quello che dicono di essere ma che non è anche se gli concedete questo non può essere spiegato non possono dimostrarlo è un'invenzione totale non dovrebbe mai essere stata accettata ok scavare dentro il suolo ghiacciato in cerca delle particelle chimiche di vita precedente di cosa si tratta questa è una premessa ridicola e poi studiare la storia dell'acqua cos'è la storia dell'acqua e come si studia la storia dell'acqua l'acqua ha una biblioteca dove si può andare per fare delle ricerche voglio dire che diamine significa tutto questo è che sembra solo un grande spettacolo un grande inganno grazie a tutti